La biblioteca fardelliana di Trapani si salva dalla liquidazione, almeno per il momento. La regione ha infatti garantito attraverso l'ARS il suo sostegno economico. La garanzia arriva direttamente dal deputato regionale Mimmo Fazio, che ha già sostanzialmente incassato il favore dell'aula per permettere lo stanziamento dei fondi necessari ed evitare la chiusura di questa struttura storica. Ad avere relazionato in aula l'ARS è stata la direttrice della fardelliana, Margherita Giacalone, che ha spiegato l'importanza di questa struttura per la cultura e la storia, non solo di Trapani, ma dell'intera provincia, trattandosi per l'appunto di un sito di rilievo. La fardelliana, afferma Fazio, è un rilevantissimo patrimonio culturale, non solo per la città di Trapani, ma per l'intera Sicilia. E il sostegno finanziario che sarà disposto dalla regione, oltre che essere più che giustificato, risarcisce la città di Trapani del danno causato dall'incompiuta norma di abolizione delle province regionali, che come conseguenza ha scaricato sul solo comune di Trapani l'onere della dotazione finanziaria annuale. Infatti la biblioteca fino al 2013 si sosteneva con i contributi dell'oramai ex provincia, che garantiva 250 mila euro l'anno, a cui si aggiungevano i 210 mila euro del comune. Dall'1 gennaio del 2014, con l'atto di recesso dell'ex provincia, venne a mancare la quota di talente. Per consentire la sopravvivenza della biblioteca, il comune di Trapani ha sino ad oggi stanziato la somma mancante con propri fondi, reiterando il provvedimento di totale e unica contribuzione negli anni 2015 e 2016, seppur con tagli rispetto al passato. Nell'ultimo bilancio però sono stati effettuati pesantissimi ed ulteriori tagli, che adesso non consentono alla Fardelliana di andare avanti e per questo è stata sull'orlo di una chiusura. Stiamo parlando di una struttura che venne fondata il 21 aprile del 1830. Nel 1881 Giovanni Battista Fardella, sindaco della città di Trapani, contestamento istituì un legato a favore della biblioteca fardelliana, con il quale si poteva gestire l'istituzione culturale. Biblioteca salva, ma il parlamentare trapanese preannuncia che comunque servirà a portare delle modifiche rispetto alla consolidata gestione degli anni passati. Necessario, aggiunge Fazio, immaginare per il futuro un'architettura diversa dal punto di vista amministrativo, sia per la biblioteca fardelliana sia per il luglio musicale. enti che potrebbero funzionare in sinergia con riduzione di costi e amplificazione di opportunità sotto l'egida di una fondazione di cui anche la regione, oltre che enti e privati, potrebbe essere partner.